gloria a dio e con grandissima emozione e gioia che ringraziamo dio per il privilegio di essere fedeli all'appuntamento con i nostri cantici cantiamo con umiltà e semplicità vogliamo portare questi cantici nella tua auto nel tuo salotto nella tua cucina o dovunque tu ti trovi la nostra speranza è che tu capisca l'importanza delle parole di questo nostro cantare parole prese dalla bibbia la voce di dio che ti chiede di aprire il tuo cuore ecco io sto alla porta e busso dice il signore se uno ode la mia voce ed apre il suo cuore io entrerò da lui ed avrò comunione con lui oggi se ascolti la mia voce non indurire il tuo cuore ma apri il tuo cuore che tu possa farlo in questo giorno in questo momento adesso mentre ascolti la parola di dio mentre ascolti questi cantici che di dio possa toccare il tuo cuore e che dio ti benedica grandemente grazie a tutti grazie a tutti